Vuole essere sentito Jacopo Vicini, membro della segreteria del sindaco di Firenze Dario Nardella, finito nel polverone della SAS perché, secondo l'accusa, avrebbe regalato quattro biglietti di un concerto a un ausiliare del traffico in cambio di voti. L'ha detto il suo avvocato Luca Bisori. Respinge totalmente questo addebito. Dal punto di vista del procedimento, noi abbiamo già detto che intendiamo chiarire quanto più rapidamente possibile la posizione del dottor Vicini che chiederà con ogni vero simiglianza di essere interrogato. Vogliamo fare questo passaggio dopo aver preso visione degli atti su cui è fondata il provvedimento da cui lui è stato raggiunto. Quindi abbiamo fatto un'istanza di riesame. Vicini a cui sono stati sequestrati cellulari, documenti e email sia a casa sia nel suo ufficio di Palazzo Vecchio, non è stato raggiunto da nessun tipo di misura. È quello che ne sa in assoluto meno di tutti perché non ha neanche l'ordinanza. Quindi noi abbiamo piluccato qua e là, principalmente dai giornali, le notizie sulla vicenda.